Buongiorno a tutti, penso che possiamo iniziare con soltanto 5 minuti di ritardo, cosa che è un record penso per gli standard universitari. Grazie a tutti per essere venuti, mi presento brevissimamente, io sono Paolo Turrini, come potete leggere sul Cavaliere, sono stato assegnista di ricerca presso questa facoltà, anzi no, presso la Scuola di Studi Internazionali dell'Università di Trento, attualmente insegno diritto internazionale presso Sociologia, qui presso i nostri dirimpettai. Sono veramente molto contento oggi di essere qui e di fare da moderatore di questo seminario su temi veramente interessantissimi e che sono reputati interessanti anche dai nostri studenti generalmente, cosa che è dimostrata dal fatto che molti di loro esercino attività inerenti all'immigrazione, svolgono anche volontariato in temi di migrazione. La tengo breve naturalmente, passo subito a presentare le persone che parleranno, o meglio chi fare i saluti, poi i relatori li presenterò con dovizie di particolari in un secondo momento. Per la facoltà di gerisprudenza, che ringrazio naturalmente per l'ospitalità che ci garantisce, parlerà il vicepreside, il professore Fulvio Cortese, professore di diritto amministrativo, e poi parlerà anche il centro a stalli con due voci, centro a stalli che pure ringrazio naturalmente perché coloro che hanno avuto l'iniziativa, che hanno portato avanti questa iniziativa insieme a noi, speriamo che questa collaborazione possa continuare con future iniziative e magari anche non solo seminariali. Bene, buongiorno a tutti, benvenuti, ringrazio i relatori ospiti che hanno aderito a questa iniziativa, sono molto contento di portare i saluti del professor Giuseppe Nesi, il prestito della nostra facoltà e anche di tutto il collegio, la comunità dei docenti. La facoltà è impegnata da tempo nell'aprire delle linee di ricerca, di studio e anche di didattica attorno alla nuova disciplina, potremmo dire, del diritto dell'immigrazione. Dico nuova disciplina perché è studiato da molto tempo, ma sta ormai diventando oggetto di un approfondimento autonomo per le particolarità ovviamente delle questioni giuridiche che sollevano i problemi dell'immigrazione, ma anche perché queste particolarità sono accompagnate da un'urgenza di occuparsene in maniera molto più approfondita. Insomma, i fatti sono molto noti e questi fatti ci spingono ad avere una consapevolezza come giuristi e a porci anche delle domande molto più profonde, non solo su problemi nuovi, ma anche su problemi molto antichi. Il titolo dell'incontro di oggi credo sia molto azzeccato perché ci fa proprio comprendere la riemersione di un tema che in fondo è il tema del confine. Il tema del confine nel nostro continente è un tema al quale per molto tempo, per molto tempo dal secondo dopoguerra in poi si è pensato meno, perché? Perché nel continente questi confini interni quantomeno sono stati, come dire, decuotati nella loro rilevanza, sono sempre rimasti a certi effetti, ma un po' meno importanti lo sono stati. Dopodiché invece ci siamo accorti che questo problema oggi torna, torna, torna soprattutto verso l'esterno e quindi torniamo a riflettere su che cos'è un confine, che non è una delimitazione pratica e basta, è un luogo di identificazione di un circuito tendenzialmente esclusivo e completo ed autoreferenziale che determina un dentro e un fuori. Un dentro e un fuori che è fatto di che cosa? Non solo di luoghi, ma è fatto di diritti, di doveri, di situazioni giuridiche soggettive. Dentro e fuori è un dispositivo, si direbbe eccezionale il confine, che separa. Quindi questa separazione in qualche modo è una cosa che ha a che fare con la storia di tutto il diritto pubblico europeo in generale. Anzi, se potremmo tornare molto indietro, potremmo tornare anche ai grandi contributi del pensiero ottocentesco sul punto. Il diritto stesso interno degli stati nasce con grande riflessione sul diritto pubblico esterno degli stati. Quindi questo dentro e fuori è fondamentale per capire cosa c'è dentro, non solo per allontanare chi sta fuori. Quindi significa ragionare molto sull'identità di che cosa c'è dentro. Ecco perché il titolo è azzeccato, crisi dei rifugiati o crisi dei valori. Quali sono i valori che muovono l'identità giuridica del dentro, di ciò che sta dentro il confine? Perché sono questi valori che determinano poi il meccanismo del dentro e fuori. Non voglio poi dire altro, ma è giusto per contestualizzare che stiamo discutendo di questioni che vanno anche al di là di una contingenza, di una emergenza. Ecco, non è soltanto la dimensione del fenomeno dal punto di vista quantitativo che ci fa pensare che l'emergenza non ci sia. E' anche la profondità del tema che ci fa pensare che l'emergenza non ci sia. E' un cambiamento di riflessione su un paradigma e su nozioni veramente molto importanti. Ecco, qui mi fermo, ringrazio veramente nuovamente tutti, auguro buon lavoro. E io conto di restare presente ad ascoltare almeno per una buona parte tutto il vostro dibattito. Grazie mille professor Cortese per questa introduzione. Ho apprezzato moltissimo in quanto internazionalista, come voi sapete, gli internazionalisti sono molto lanciati sui confini. Talvolta per barricarli, talvolta invece per aprirli. Comunque è un tema che ci interessa molto, tant'è che il prossimo convegno dei giovani internazionalisti sarà proprio sul tema del confine, declinato in tantissimi modi, perché effettivamente il confine può essere applicato a tantissimi spazi, però sarà proprio questo, la dimostrazione del fatto che è un tema molto attuale. Do quindi la parola, senza indugio, ai rappresentanti del centro, che ringrazio naturalmente di nuovo. Grazie, sono qui in qualità di vicepresidente, mi chiamo Antonella, del centro Astalli Trento, e quindi vi porto il saluto del Consiglio e di tutto la Astalli. Volevo solo ringraziare anch'io l'università, insomma, perché ci ha dato questa opportunità. Questo evento si inserisce per noi a Astalli Trento all'interno di un percorso formativo per gli operatori legali che vede non solo la Astalli Trento, ma vede la rete della Astalli in Italia, qui oggi. E non solo la rete Astalli, ma anche altre realtà affini. La Astalli nasce da, come dire, una costola in qualche modo della Astalli Roma, che è il primo centro nato, insomma, per i rifugiati, ed è nato da padre Arruppa, insomma, dalla volontà di questo gesuita. e questa cosa un po' ha contagiato altre realtà d'Italia e ci sono appunto, sono nati poi gli altri centri Astalli. Per cui la rete, il centro Astalli Trento fa parte di questa rete, fa parte poi della rete del servizio dei gesuiti per i rifugiati, e è nato a Trento all'interno della fondazione Sant'Ignazio, quindi anch'essa, come dire, è una realtà gesuitica, tra virgolette, ma è una realtà anche laica, perché tutte le realtà che fanno parte della fondazione sono realtà laiche. E ecco, questo è il nostro, come dire, il motto della Astalli, appunto quello di padre Arruppa, che è accompagnare, servire e difendere. E questa è la nostra mission, e cerchiamo di portarla avanti. E mi sembra importante che oggi la Astalli sia uscito dai confini, appunto, del compendio di Villa Sant'Ignazio dove è la sede, proprio perché questa tematica riguarda la popolazione, cioè riguarda tutti noi come cittadini, e quanto più riusciamo a raggiungere persone e a aprire i confini nostri, permettiamo anche all'altro di comprendere, come dire, questi eventi che per alcuni cittadini, purtroppo si sente nelle cronache, eccetera, addirittura mi ha sconvolto un insegnante di Venezia, che appunto è stata, come dire, aveva un blog dove diceva delle cose molto, molto forti rispetto alle persone che arrivano da zone, insomma, di guerra, piuttosto che, ecco. Quindi penso che l'uscire dai confini di persone che già lavorano, che sono sensibili a questo tema, e quindi entrare, come dire, aprirsi alla cittadinanza, penso che sia proprio una cosa essenziale, perché altrimenti ci parliamo fra di noi, ci comprendiamo fra di noi, ma poi non si contagia positivamente il resto, insomma. Grazie, vi dettagli sulla Stalli, ve li darà il nostro coordinatore che è Stefano. Sì, beh, è già stato molto detto, ringrazio il professor Cortese anche come vicepreside per il saluto a nome della facoltà. Io porto il saluto da parte dell'equipe, dei 40 dipendenti del Centro Stalli, dei più di 60 volontari, e qui lasciatemi anche un ringraziamento specifico all'area legale del Centro Stalli, a Camilla Pontalti come referente, e a Irene Serangeli che è la referenza per la parte della formazione per l'area legale, perché hanno poi curato anche tutti gli aspetti di contenuto di queste due giorni. Come già la vicepresidente diceva, siamo all'interno di una due giorni, partita ieri, con tutta la rete del servizio ai gesuiti e ai rifugiati, e quindi la presenza di persone che arrivano da in fondo all'Italia, insomma da Palermo, Catania, Roma, e poi a salire Imperia, Padova, Vicenza, e anche molti partner, sia Trentini che vedo in sala, di addetti ai lavori, sia appunto da Mantua a Bolzano, con cui collaboriamo molto nell'accoglienza. Quindi questo è già un elemento di significato, il fatto di essere qui all'interno di queste due giorni. Poi spenderei una parola sul luogo, cioè l'essere qui in università. Allora già un mese fa eravamo qui fuori, all'interno della settimana dell'accoglienza, con il CNCA, nella marcia in memoria delle vittime dell'immigrazione, il 3 ottobre, come sapete, giornata nazionale delle vittime dell'immigrazione, che con il CNCA abbiamo poi organizzato questa marcia. e la scelta poi di fare una sosta all'esterno dell'università era voluta rispetto al riconoscimento di un luogo che è un luogo del diritto, che è un luogo della formazione, che è un luogo dei giovani, che è un luogo del futuro. E quindi credo che oggi essere qui in questo luogo è un percorso. L'ho già detto a qualcuno di voi, durante quella marcia si era avvicinata una persona dicendomi grazie, perché io sono una cittadina, non una media, una trentina media, e mi avete dato la possibilità di essere dentro una marcia che per me è significativa, perché vuol dire che anch'io ci sono. Quindi da oggi, rispetto a questo percorso, c'è un grado di forte responsabilità. La rete dei centri a stalli, la rete delle persone che lavorano nell'accoglienza devono sentire forte il grado di responsabilità nel raccontare la complessità del fenomeno, nel dare l'opportunità ai giovani studenti, agli operatori che lavorano nell'accoglienza, di formarsi il luogo del sapere, il luogo di non sentirsi mai pronti fino in fondo a gestire un fenomeno come quello che stiamo seguendo. E quindi, come dire, l'essere in prima linea lo è esserlo nell'emergenza, ma lo è esserlo anche nel dare voce alle persone che noi accogliamo, uscendo dalla dimensione dell'emergenza, uscendo dalla dimensione del qui e ora, dandoci uno sguardo lungo. E qui, con l'università, con le istituzioni, poi gli interventi dei relatori ci aiuteranno anche in questo, ci deve permettere di essere guida, di essere faro nei confronti della cittadinanza. Noi siamo degli attori privilegiati, abbiamo una fortuna, quella di poter essere già stati in parte contaminati rispetto al sistema di accoglienza, ma anche rispetto a un grado di sensibilizzazione. Ecco, dobbiamo arrivare anche in quei luoghi, nelle scuole, nell'università, nella comunità trentina, portando un segnale di fiducia, di speranza, di sguardo che possa veramente andare oltre i confini. E quindi un mese fa, quando transitavamo per le vie di Trento, raccontavamo alle persone che quei confini non li hanno visti, perché sono morte prima di arrivare qui. Quindi questa Europa nella crisi dei valori o nella crisi dei confini. Ecco, credo che oggi sia proprio calzante questo. Quindi io ringrazio poi i vari relatori, ringrazio enorme anche di tutta la rete del Centro Astalli, nuovamente ringrazio l'università con la quale abbiamo appena sottofirmato una convenzione, un memorandum, che ci impegna in una collaborazione specifica sia nell'esperienza, la possibilità che gli studenti entrino dentro le organizzazioni che fanno accoglienza in Trentino, sia la possibilità che il Centro Astalli entri dentro l'università, all'interno delle docenze, del confronto, del dibattito. Ecco, quindi io veramente, come dire, come coordinatore, credo che parlando anche a nome delle altre organizzazioni, ci sentiamo il dovere di non essere qualunquisti, ma di essere ogni giorno specifici, specialisti del racconto e dell'accoglienza basata su sistemi multidisciplinari, su sistemi multisituati che non tralasciano nessun dettaglio, perché i dettagli di cui parliamo sono persone. Grazie mille. Grazie mille a voi, a Antonella e Stefano, per questa introduzione. Vi ringrazio per l'ennesima volta, a costo di dare la nausea a qualcuno, non solo, come ho detto prima, perché ci avete dato l'abbrivio per l'organizzazione congiunta di questo bel convegno, ma anche perché ci date l'occasione per uscire un po' dalle aule universitarie. Noi oggi siamo in università, però metaforicamente ne siamo usciti anche, grazie a voi e grazie anche per la notizia che ci avete dato sulla stipula di un accordo, di una convenzione che ci permetterà anche di rinsaldare i rapporti tra centro a stalli e università. Capita occasionalmente che l'università si apra al mondo esterno, ma non è così frequente come dovrebbe essere, probabilmente. Sono contento che questa sia una di quelle occasioni in cui l'università si apre al mondo. non ci sono soltanto giuristi che se la cantano e se la suonano su dettagli sofistici magari, che sono pure importanti naturalmente, non voglio sminuirli, quindi ragazzi studiate, però è bello anche che ogni tanto si possano applicare le norme che vengono studiate e sicuramente il centro fa un'opera lodevole, meritoria in questo senso, quindi di nuovo mila ringraziamenti. Passiamo subito alle relazioni che in fin dei conti siete qui per questo e non per sentirmi sbrodolare. Il primo relatore è il professore Federico Casolari che viene da Bologna, città in cui mi sono laureato. Il professor Federico Casolari insegna diritto dell'Unione Europea presso la facoltà di giurisprudenza di Bologna e ha insegnamenti anche presso scienze politiche. Insegna diritto dell'Unione Europea ma ha interessi a cavallo tra il diritto dell'Unione Europea che è il diritto internazionale quindi a vasto raggio e infatti si occupa anche del rapporto tra diritto internazionale e diritto dell'Unione Europea nel modo in cui il diritto europeo ingloba il diritto internazionale si occupa di relazioni esterne dell'Unione Europea si è occupato recentemente anche di diritto dei disastri e ho l'impressione che oggi invece ci parlerà di un disastro del diritto il titolo è piuttosto evocativo mi sembra del suo intervento è membro del CIRDE cioè un centro di ricerca sul diritto europeo e anche membro del consiglio direttivo della SIDI la società italiana di diritto internazionale quindi una persona molto impegnata e anche per questo lo ringrazio per aver trovato il tempo per venire qua da ultimo è stato mio relatore di tesi cosa che in questa sede potrà non interessare però è una motivazione che per me vale naturalmente quindi gli cedo senza senza un terreno indugi la parola e di nuovo lo ringrazio grazie sono io che ringrazio Paolo il professor Pertile del centro Astalli per questo invito mi fa molto piacere essere qui con voi non indugerò cercherò di non indugiare in dettagli sofistici sono un giurista però quindi ho questa tendenza diciamo a analizzare anche elementi elementi di dettaglio ma in realtà cercherò di non farlo quello che vorrei fare con voi in questo intervento che è anche abbastanza consistente in termini temporali è quello di aprire alcune finestre sull'approccio che l'Unione Europea ha adottato da un punto di vista giuridico nella gestione della questione migratore la chiamo questione perché non voglio chiamarla crisi non voglio chiamarla emergenza vi spiegherò dopo in realtà alla fine perché non voglio utilizzare questi termini sostanzialmente la tesi che è già nel titolo è che in realtà qui siamo di fronte riprendendo i temi evocati nel titolo dell'incontro a una vera e propria crisi del diritto dell'Unione Europea cioè le categorie normative principi normativi che informano l'esercizio delle politiche dell'Unione Europea in generale e in materia sembrano effettivamente essere completamente saltate e questo è un problema è un problema di non poco conto e quindi vorrei con voi cercare di mettere in luce questo problema sistemico che sembra l'ordinamento giuridico dell'Unione Europea sperimentare rispetto a questo tema il mosaico che vorrei comporre si realizza attraverso quattro passaggi quindi analizzeremo quattro tessere sostanzialmente che corrispondono a quattro strumenti differenti che sono stati messi in campo dal 2015 sostanzialmente da quando l'Unione Europea ha adottato l'agenda europea delle migrazioni per adottare quello che doveva essere un approccio coerente ed efficace rispetto alla questione migratoria e appunto vedremo per ciascuno di questi quattro strumenti quali sono gli elementi critici problematici che emergono il primo strumento di cui vorrei brevemente occuparmi con voi anche se è già complicato poterlo definire strumento giuridico in realtà è il cosiddetto sistema degli hotspot che è stato istituito a seguito appunto dell'adozione dell'agenda europea delle migrazioni la prima questione riguarda proprio la qualificazione del del meccanismo chiamiamolo così è uno strumento giuridico cioè l'unione europea ha adottato per dare vita al sistema di filtro sostanzialmente di migranti di cui tra poco vi parlerò un atto giuridico come ci si dovrebbe aspettare nell'esercizio delle competenze che le sono attribuite in materia migratoria o no è semplicemente un approccio un'attitudine che l'ordinamento giuridico dell'unione europea ha inteso mettere in atto e che gli stati membri interessati in particolare Grecia e Italia hanno in qualche modo incorporato nei loro sistemi di accoglienza se guardiamo agli elementi di prassi manca un atto normativo in questo caso non abbiamo un regolamento una decisione da parte dell'unione europea che nell'esercizio delle sue competenze disponga il funzionamento e l'implementazione di questo meccanismo non abbiamo alcuno strumento di diritto derivato e questo è già piuttosto particolare tenete conto che l'unione europea è un'organizzazione internazionale un'organizzazione che quindi si basa sul principio di attribuzione delle competenze che quindi deve esercitare competenze sulla base di quelli che sono i fini degli obiettivi previsti dei trattati un po' particolare che in questo caso l'unione europea decida di mettere in campo un meccanismo senza tuttavia esercitare in modo espresso una competenza non esiste quindi un quadro giuridico definito a livello di unione europea esiste un explanatory report un rapporto che è stato elaborato dalla commissione europea che spiega un po' il funzionamento degli hotspot e a cascata poi abbiamo una serie di rapporti periodici che la commissione europea ha adottato sull'attuazione di questo meccanismo da parte dei paesi membri interessati quindi la prima peculiarità è che qui siamo di fronte dunque a un approccio pratico che è stato messo in campo dalle istituzioni in assenza di un quadro giuridico chiaro e definito che cosa sono questi hotspot anche questo non è immediato da definire perché non avendo uno strumento giuridico non abbiamo nemmeno una definizione normativa che ci viene offerta dall'Unione Europea in realtà la commissione europea nei suoi documenti di lavoro non si interroga tanto sull'hotspot in quanto tale ma sull'approccio sull'hotspot approach e definisce questo approccio come una piattaforma sostanzialmente operativa messa in campo messa in opera in paesi che sono sottoposti a una pressione migratoria particolarmente consistente e anche mista nelle composizioni nazionalità dei soggetti coinvolti una piattaforma operativa in cui i paesi membri che direttamente sono chiamati a gestire il flusso migratorio vengono assistiti coadiuvati supportati da alcune agenzie dell'Unione Europea quindi si tratta di organismi di carattere amministrativo in qualche modo indipendenti dall'apparato istituzionale generale dell'Unione Europea le quali prestano la loro opera per coadiuvare gli stati membri nella gestione degli arrivi quindi gli hotspot fisicamente dovrebbero essere dei luoghi delle frontiere esterne dell'Unione Europea che sono sottoposte a questa pressione in qualche modo eccezionale o anomale come vi dicevo per il momento l'individuazione di questi luoghi è stata fatta in Italia e in Grecia però questo non significa che la metodologia non possa essere applicata anche ad altri paesi membri addirittura si è iniziato a pensare anche di esternalizzare lo strumento e quindi si ipotizza anche si è ipotizzato quanto meno la possibilità di introdurre queste piattaforme anche in paesi terzi che sono paesi di transito dei flussi migratori e una piattaforma operativa di coordinamento tra quindi le autorità degli stati interessati Italia e Grecia e agenzie dell'Unione Europea Frontex EASO Europol Eurojust tutte le agenzie che sono più o meno direttamente coinvolte nella gestione di questioni attenenti al fenomeno migratorio come funziona il coordinamento a questo punto tra lo stato membro interessato e le agenzie europee ancora una volta qui abbiamo un problema pratico non abbiamo uno strumento normativo che ci definisce le modalità di coordinamento perché sarebbe lo strumento che governa la misura a dovere in qualche modo definirne il funzionamento interno noi non abbiamo questo strumento abbiamo ancora una volta questo rapporto esplicativo della commissione europea che in modo molto generico per la verità va a definire il contributo che ciascuna singola agenzia può fornire allo stato e poi abbiamo delle procedure operative che sono state adottate dall'Italia e dalla Grecia per in qualche modo meglio dettagliare meglio declinare il coordinamento con le agenzie dell'Unione quindi anche a livello nazionale questo quantomeno in Italia non abbiamo avuto delle modifiche di carattere legislativo al momento ma sono stati introdotti degli atti che hanno rilievo secondario nella nostra gerarchia delle fonti volte appunto a regolamentare dal punto di vista operativo questi hotspot e la piattaforma dovrebbe in qualche modo essere sviluppata secondo l'organigramma che vedete riprodotto in questa slide che è un organigramma che è stato elaborato dalla Commissione Europea in questo documento esplicativo di cui vi parlavo si tratta appunto di una cooperazione volta a gestire l'ingresso da parte di migranti in Grecia e in Italia quindi abbiamo la fase di sbarco la fase di identificazione e poi le informazioni dovrebbero essere fornite informazioni e soggetti circa la possibilità di poter ottenere protezione internazionale e poi da qui i destini delle persone che vengono in qualche modo catturate dal sistema hotspot dovrebbero dividersi perché dovremmo avere persone che presentano domande di asilo e quindi rientrano poi nel sistema di accoglienza persone che dovrebbero rientrare nel meccanismo di ricollocazione e relocation di cui pure vi parlerò tra poco e quindi dovrebbero essere poi trasferite in altri paesi membri secondo un sistema di gestione congiunta diciamo degli oneri derivanti da flussi migratori consistenti che è stato introdotto dall'Unione Europea e poi persone invece che non hanno titolo alla protezione quindi a questo punto subentrerebbe l'autorità di polizia e eventualmente poi avremmo misure di rimpatrio quindi con l'applicazione della direttiva rimpatrio e qualt'altro questo è un po' semplificando un organigramma che insomma già vedete non è esattamente immediato nella sua lettura questo è un po' il sistema che è stato concepito tutto questo meccanismo questo coordinamento dal punto di vista temporale dovrebbe svolgersi in poco tempo per consentire poi il deflusso di queste persone verso collocazioni più consone quindi in 24-48 ore secondo quello che era stato il modello elaborato dalla Commissione Europea e dall'Istituzione Europea le persone che entravano negli hotspot avrebbero dovuto poi lasciare questi luoghi ora la realtà la prassi ci dice che le cose non vanno così ci dice che le cose non vanno così nel senso che innanzitutto in questi luoghi sono state acclarate violazioni consistenti significative dei diritti umani fondamentali di queste persone questo tanto negli hotspot italiani quanto in quelli della Grecia e cosa non meno rilevante è sostanzialmente impossibile garantire un deflusso da questi luoghi in tempi compressi come previsto originariamente cioè in questi luoghi sostanzialmente i soggetti finiscono per essere di fatto detenuti per anche periodi significativi di tempo quindi si sono trasformati in più di una occasione in luoghi di detenzione anche questo reca problemi in termini di tutela dei diritti fondamentali le censure riguardo alla violazione dei diritti fondamentali sono state fatte valere non solo da organizzazioni non governative ma anche da istanze appartenenti a organizzazioni intergovernative quindi altre organizzazioni internazionali nella slide riporto un passo di un comunicato stampa dell'alto rappresentante per i rifugiati delle Nazioni Unite in cui sostanzialmente si dà conto del fatto che questi luoghi si stanno trasformando in centri di detenzione questo non risponde allo standard di tutela dei diritti fondamentali che è garantito dal sistema onusiano e quindi l'UNHCR da questo punto di vista rinuncia ad avere un ruolo operativo come aveva fino a quel momento avuto negli hotspot in questo caso stiamo parlando di hotspot in Grecia collocati situati in Grecia e si limita a fornire un'azione di supporto estremamente light in attesa che si ripristino le condizioni per svolgere in modo legittimo il compito affidato all'organizzazione quindi voglio dire c'è una preoccupazione sulla tutela dei diritti fondamentali che è ormai largamente condivisa e che ha avuto modo di manifestarsi anche attraverso prese di posizione dure devo dire anche con una certa come dire rottura rispetto a prassi passate da parte di organizzazioni internazionali piuttosto questi toni non sono sempre stati adottati in passato da altre organizzazioni internazionali quindi problemi connesse alla tutela dei diritti fondamentali che portano hanno portato di fatto a un peggioramento a un deterioramento del sistema di accoglienza nei paesi interessati senza che e questo è un elemento importante si procedesse a delle modifiche normative proprio perché siamo di fronte ad un approccio il diritto non è cambiato non è cambiato quello a livello di unione europea nemmeno cambia quello dei paesi membri interessati ma la conseguenza dell'applicazione di questo approccio è un deterioramento del sistema quindi non migliora il sistema anzi si pongono nuovi problemi si introducono nuovi elementi di criticità riguardo alla tutela dei diritti fondamentali dei soggetti c'è poi un altro tema che complica ulteriormente il quadro che è quello relativo e qui entro in un ambiente che è un po' dominato perché è tecnico ma sarò assolutamente sintetico e quindi non entrerò in dettagli estremamente estremamente tecnici tecnico-giuridici dicevo c'è poi un altro aspetto che è molto rilevante che è pure problematico che è quello relativo alla imputabilità delle violazioni dei diritti umani che si realizzano in questi hotspot cioè in altri termini chi risponde delle violazioni dei diritti umani acclarate accertate che si realizzano in questi luoghi ne risponde lo Stato italiano ne risponde la Grecia ne rispondono le agenzie dell'Unione Europea che sono coinvolte nella gestione di questo approccio tutti i soggetti possono essere chiamati a titolo solidale a rispondere di queste violazioni non è semplice dare una risposta a queste domande perché non è chiaro come concretamente si ripartiscono le competenze all'interno di questi hotspot tra gli stati membri dell'Unione Europea e le agenzie dell'Unione Europea è chiaro che lo Stato ha evidentemente una responsabilità in merito non fosse altro perché è lo Stato comunque che gestisce i luoghi da questo punto di vista l'Unione Europea svolge un'azione di supporto quindi non interviene direttamente nella costruzione nella realizzazione delle infrastrutture quindi è evidente che lo Stato ha un ruolo primario da questo punto di vista e quindi indubbiamente potrà essere chiamato a rispondere alla violazione dei diritti umani ad esempio attraverso il meccanismo della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo quindi con possibilità di ricorsi individuali alla Corte di Strasburgo e qui abbiamo già una giurisprudenza copiosa della Corte di Strasburgo che già ci dice che molte delle pratiche messe in opera in questi luoghi sono senz'altro problematiche dal punto di vista dello standard che la CEDU garantisce ai migranti più complicato è capire se anche l'Unione Europea può essere chiamata a rispondere più complicato perché il quadro della responsabilità delle organizzazioni internazionali è già un tema piuttosto complesso soprattutto nel momento in cui le organizzazioni operano assieme agli stati non entro ripeto nei dettagli quello che si può dire a mio parere io ho avuto modo di studiare il tema insomma e a mio parere è chiaro che esiste un titolo di responsabilità dell'Unione Europea nella misura in cui non compie le azioni per prevenire possibili violazioni dei diritti fondamentali quando evidentemente ha la possibilità di influenzare la condotta degli stati o degli operatori che agiscono in questi luoghi però il problema rimane rimane il problema dettato dall'assenza di un quadro normativo chiaro che a cascata produce anche una difficoltà ad individuare chi fa cosa e quindi chi è responsabile per cosa evidentemente tutto questo non è casuale voglio dire il fatto che non manchi un quadro normativo da questo punto di vista fa gioco ai soggetti che sono coinvolti nell'approccio quindi questo primo flash vi dà conto di alcuni elementi problematici che già si affacciano sulla scena utilizzo di strumenti anomali approcci nell'interpretazione del diritto vigente che portano a consistenti violazioni dei diritti umani e a problemi di imputabilità delle condotte un altro elemento rilevante quindi un altro tassello di questo mosaico che peraltro è complementare rispetto a quello che vi ho appena descritto è rappresentato dal meccanismo della ricollocazione o relocation che già richiamavo all'inizio ora in questo caso rispetto al sistema hotspot abbiamo degli strumenti normativi quindi l'Unione Europea ha dato vita a questo meccanismo attraverso l'adozione di decisioni nella specie che sono state adottate utilizzando come base giuridica l'articolo 78 paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea il quale consente all'Unione Europea di adottare delle misure vedete laddove vi sia una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi quindi abbiamo una base giuridica nei trattati che attribuisce la possibilità alle istituzioni di normare di adottare strumenti normativi ed è stato fatto questo quindi da questo punto di vista la fisiologia dell'ordinamento è stata garantita cosa è stato fatto è stato introdotto un meccanismo basato su un principio di solidarietà di ripartizione di responsabilità tra gli stati membri principio che vi segnalo dovrebbe informare l'intera politica dell'Unione Europea in materia di migrazioni è un principio da questo punto di vista generale dell'intera politica un meccanismo in base al quale sostanzialmente si prevede un trasferimento verso paesi membri dell'Unione Europea di soggetti che chiaramente necessitano di protezione internazionale che abbiano fatto accesso all'Unione sostanzialmente tramite quella che è la rotta migratoria centro-mediterranea o in parte centro-orientale i paesi che beneficiano del sistema di ricollocazione ancora una volta sono l'Italia e la Grecia sostanzialmente quindi attraverso questo sistema gli altri paesi membri si impegnano ad accogliere sul loro territorio dei soggetti che hanno titolo di ottenere protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio dell'Unione attraverso Italia e Grecia ovviamente l'impegno è fondato su principi di solidarietà di eco-ripartizione però come vedete c'è anche una remunerazione che è prevista per gli stati che si accollano l'impegno nel senso che per ogni persona che beneficia diciamo così del meccanismo di ricollocazione è prevista una somma forfettaria di 6.000 euro ora qual è il problema di questo meccanismo è molto semplice non funziona cioè se noi andiamo a vedere la prassi applicativa guardiamo i numeri vediamo che dei numeri previsti per appunto ripartire i soggetti nel territorio dell'Unione dei numeri previsti nessuno di questi quindi delle soglie che sono state previste nessuna di queste è stata fino ad ora rispettata sarei un po' più radicale cioè siamo lontanissimi dai numeri e dalle quote che erano state previste adesso magari non vedete perché la slide non è leggibile però parliamo di 845 persone ricollocate contro 34.000 o di 2313 contro 63.000 cioè stiamo parlando veramente di uno scarto enorme tra quello che è stato fatto concretamente e quello che era previsto e che gli stati si erano impegnati a fare dove sta il problema a questo punto abbiamo strumenti normativi se seguite la fisiologia istituzionale dov'è il cortocircuito perché il sistema non funziona il sistema non funziona perché gli stati membri hanno dimostrato una forte resistenza rispetto alla attuazione e all'applicazione del meccanismo in diverso modo innanzitutto devo dire che la decisione che è stata assunta in ordine all'adozione di questo meccanismo è una decisione che è stata assunta a maggioranza qualificata dal Consiglio quindi ci sono stati comunque degli stati che hanno votato contro ma questo di per sé non è un elemento rilevante perché il Consiglio quasi all'80% adotta una normativa a maggioranza qualificata quindi non è un elemento di per sé dirimente però alcuni degli stati che hanno espresso una posizione contraria al meccanismo di ricollocazione non si sono fermati a questo ma hanno iniziato a mettere in campo delle azioni di resistenza o sabotaggio insomma vedete voi come chiamarle per esempio Ungheria e Slovacchia hanno deciso di impugnare queste decisioni che hanno dato vita al meccanismo davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea argomentando la illegittimità delle misure che sono state adottate che sono state ritenute discriminatorie cioè si è ritenuto che in realtà i beneficiari siano solo una parte minima dei soggetti che potrebbero essere destinati al meccanismo di ricollocazione e quindi il meccanismo di scrimini tra coloro che potrebbero essere beneficiari e quindi abbiamo due ricorsi che sono pendenti oggi davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale sarà chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di queste decisioni in realtà anche questo non dovrebbe essere un elemento di per sé critico nel senso che spesso accade che gli stati impugnino atti di diritto dell'Unione Europea perché ritengono che il loro contenuto non sia conforme al diritto primario che presentino dei vizi di legittimità quindi di per sé il fatto che ci sia stata un'impugnazione davanti alla Corte di Giustizia è un elemento significativo perché come dire mette lancia un'ombra quantomeno sulla stabilità di questo meccanismo nel tempo perché laddove la Corte ritenga di dichiarare il meccanismo o meglio le decisioni legittime è chiaro che noi avremmo un vuoto normativo quindi il meccanismo non potrebbe più continuare ad operare quindi certo c'è un problema però un problema che di per sé non dovrebbe essere considerato come particolarmente critico più rilevante nei termini di una resistenza politica all'attuazione del meccanismo di relocation è l'episodio del referendum che si è tenuto in Ungheria che è stato indetto dal primo ministro ungherese Orban è un referendum consultivo col quale sostanzialmente è stato chiesto alla popolazione ungherese se fosse d'accordo circa il fatto che l'Unione europea potesse assumere delle decisioni in materia migratoria in grado di incidere significativamente sullo Stato sul suo funzionamento con l'idea che appunto il futuro dell'Ungheria lo vedete in questo cartello insomma debba rimanere nelle mani dell'Ungheria non possa essere imposto da Bruxelles questo è un elemento che invece come dire introduce degli elementi dei profili di problematicità forti riguardo all'effettività del principio del meccanismo di ricollocazione e sono dei profili di problematicità che sono connessi all'attitudine che gli Stati hanno possono avere rispetto all'applicazione del diritto dell'Unione europea teoricamente ogni Stato membro dell'Unione europea dovrebbe dimostrare loyalty lealtà nei confronti dell'Unione europea esiste un principio che è incardinato nei trattati il principio di leale cooperazione che impone agli Stati per la verità anche all'Unione europea ma nella pratica soprattutto agli Stati di dimostrare leale cooperazione nei confronti dell'Unione cosa significa leale cooperazione significa che gli Stati non possono porre ostacoli alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione e delle misure che l'Unione assume quindi una volta che l'Unione europea adotta degli strumenti normativi vincolanti e questo è il caso gli Stati dovrebbero darvi esecuzione anche in pendenza di ricorsi davanti alla Corte di Giustizia in buona fede senza introdurre degli elementi degli ostacoli che possano inficiare l'efficacia degli strumenti è una clausola di buona fede generale che impone però obblighi ma anche piuttosto stringenti agli Stati membri è evidente che l'indizione di un referendum lo svolgimento di una campagna elettorale tutta volta a mettere in discussione il fondamento di questo strumento e poi la sua concreta disapplicazione nei fatti insomma qualche problema in termini di coerenza rispetto al principio di leale cooperazione lo pongono cioè qui siamo di fronte effettivamente a uno scollamento dello Stato rispetto a questo paradigma di lealtà che sarebbe dovuto all'ordinamento giuridico dell'Unione Europea peraltro tenendo conto di alcuni elementi che magari sfuggono normalmente alla narrazione di questi fatti ma che sono significativi e che meritano di essere richiamati cioè che certo è vero che si può immaginare un impatto sugli Stati membri che si sono impegnati ad accogliere nel loro territorio alcuni migranti nell'ambito del meccanismo della ricollocazione anche se l'impatto francamente è limitato però a fronte di questo impatto non solo come vi dicevo prima è riconosciuto un gettone per persona ma gli Stati hanno anche ottenuto altre forme di supporto e di sostegno da parte dell'Unione Europea l'Ungheria per esempio ha beneficiato del meccanismo dell'Unione Europea in materia di protezione civile quel meccanismo che si applica in caso di disastri per l'appunto avendo un'assistenza operativa tecnica da parte degli altri Stati membri per la gestione della questione migratoria e non solo è stato pianificato per il periodo 2014-2020 un assai consistente contributo finanziario che la Commissione europea ha destinato all'Ungheria in generale per le politiche migratorie e quindi comprese anche questi profili di cui ci stiamo occupando voglio dire che appunto in realtà il quadro più elaborato ci dà conto di una situazione nella quale poi gli Stati sono supportati non solo dal punto di vista finanziario ma anche dal punto di vista operativo e quindi in quest'ottica il loro impegno e il loro accollarsi degli oneri dovrebbe francamente essere ridimensionato chiaramente il caso ungherese è un caso se volete paradigmatico anche perché in realtà questo episodio del referendum si inserisce in un contesto più ampio di dialettica di scontro direi tra le autorità di Budapest e l'istituzione dell'Unione Europea c'è un problema più complesso e sistemico di rispetto della rule of law dello Stato di diritto a livello ungherese quindi il caso ungherese se volete è particolare però dai dati che vi ho illustrato emerge chiaro che c'è una resistenza comunque forse meno eclatante passiva ma altrettanto efficace anche negli altri Stati membri e quindi qui un problema di rispetto della leale cooperazione si pone ed è un problema che ha una valenza politica perché è chiaro che si mette in discussione il vincolo tra gli Stati membri e l'Unione Europea ed ha anche però una valenza giuridica teoricamente la leale cooperazione è un principio normativo da cui discendono obbligi che potrebbero essere fatti valere anche in sede giurisdizionale io non so quando ho ancora un quarto d'ora un quarto d'ora perfetto terza tessera la dichiarazione tra Unione Europea e Turchia quello che viene banalmente chiamato all'accordo tra Unione Europea e Turchia nella gestione dei migranti che ha sostanzialmente interviene sostanzialmente nel governo della rotta centro-orientale è stata adottata questa dichiarazione nel marzo di quest'anno sulla base in realtà di un piano di azione del 2015 cosa prevede dal punto di vista operativo questa dichiarazione prevede è che la Turchia assuma un obbligo di rimpatrio di migranti irregolari inclusi richiedenti asilo che sono giunti attraverso la Turchia nell'isola greca a partire dal 20 marzo 2016 e poi è previsto un meccanismo noto come sistema 1-1 per cui per ogni siriano che viene sottoposto a obbligo di rimpatrio la Turchia trasferisce un siriano verso l'Unione Europea e questi impegni che il governo turco ha assunto prevedono come contropartita un sostegno finanziario direi tutto sommato non irrilevante complessivamente il pacchetto è di 6 miliardi di euro 3 più 3 quindi il sostegno finanziario certo non è non è rilevante un programma di liberalizzazione dei visti a favore dei cittadini turchi quindi per la facilitazione della libera circolazione e poi un riavvio politico del processo di adesione della Turchia stavo dicendo dell'Unione Europea e della Turchia della Turchia all'Unione Europea sapete che la Turchia ormai credo abbia il primato di paese candidato all'Unione Europea sono decenni che la Turchia è candidata ad aderire ci sono dei problemi politici giganteschi che hanno fino ad ora bloccato l'adesione ma insomma con questo statement l'idea è quella di riaccendere il percorso ora anche qui profili critici non mancano anzi direi che i profili critici contraddistinguono interamente questo strumento un primo elemento che balza subito all'attenzione è che i richiedenti asilo vengono inclusi nella nozione di migranti irregolari cosa che come ben sapete non dovrebbe accadere perché i richiedenti asilo hanno uno status che è differente da quello dei migranti irregolari invece vengono straordinariamente si dice in questa dichiarazione vengono assimilati ai migranti irregolari già questo lascia francamente un po' un po' perplessi ma gli elementi di perplessità in realtà sono molti altri adesso ci vengo subito a fronte devo dire in questo caso di uno strumento che si è dimostrato estremamente efficace cioè se noi andiamo a vedere la prasse applicativa e vedete da questa da questa slide effettivamente la Turchia il suo lavoro l'ha fatto però però problemi ne abbiamo allora innanzitutto che cos'è questa dichiarazione è un accordo internazionale perché vedete se fosse un accordo internazionale concluso dall'Unione Europea con la Turchia si dovrebbe seguire una procedura che è fissata nei trattati in particolare nell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che è la disposizione che disciplina il treaty making power dell'Unione Europea l'Unione può concludere accordi ne conclude tantissimi chiaramente però deve farlo attraverso una procedura determinata che prevede il convolgimento di istituzioni tra cui il Parlamento Europeo peraltro quindi dovrebbe garantire anche un controllo democratico sugli impegni che l'Unione Europea si assume peraltro potrebbe esserci anche l'intervento degli stati membri con complicazioni enorme pensato al CETA alle questioni di questi giorni ma insomma non apro quella parentesi però se l'Unione Europea avesse inteso concludere un accordo internazionale avrebbe dovuto seguire quella procedura cioè in altri termini non esiste la possibilità di concludere accordi internazionali per l'Unione Europea al di fuori della procedura prevista nei trattati perché ancora una volta dobbiamo ricordarci che l'Unione Europea è un'organizzazione internazionale quindi può agire nei limiti delle competenze attribuite quindi deve esercitare le proprie competenze secondo le procedure che sono previste però l'articolo 218 non è stato attivato e però se io vado a vedere i contenuti di questa dichiarazione mi pare di capire insomma dal tenore letterale della dichiarazione che le parti abbiano assunto degli impegni degli impegni vincolanti quindi non posso ritenere che si tratti di una mera dichiarazione politica come se ne adottano alla fine di summit o di incontri in realtà siamo di fronte a qualcosa di diverso e da questo punto di vista il diritto internazionale non pone delle limitazioni significative cioè gli accordi internazionali possono essere conclusi con una libertà di forma estremamente significativa si possono concludere accordi internazionali anche in forma orale teoricamente per cui il diritto internazionale non limita la possibilità che questo statement sia un accordo il problema lo abbiamo dal punto di vista del diritto dell'Unione Europea che invece dei limiti li pone alle istituzioni nelle procedure che devono essere seguite allora c'è chi sostiene che siamo di fronte a una violazione dell'articolo 218 e che quindi dovrebbe esserci una azione volta a dichiarare l'illegittimità di questo strumento davanti alla Corte di Giustizia le istituzioni si difendono dicendo avendo ovviamente premura parlo dell'istituzione dell'Unione avendo premura di dichiarare che questa è appunto una dichiarazione uno statement vedete il linguaggio che viene utilizzato e poi soprattutto che si tratta di una dichiarazione che incorpora degli obblighi precedentemente assunti sulla base di altri strumenti quindi in realtà non aggiungerebbe nulla di nuovo a obblighi precedenti che derivano effettivamente da accordi internazionali un accordo di riammissione e che rientrano anche nel piano dei negoziati dell'adesione della Turchia all'Unione Europea però insomma è difficile sostenere che qui abbiamo solo un ribadimento di obblighi precedenti anche perché il meccanismo 1-1 che vi ho appena richiamato non lo ritroviamo in nessun altro strumento è una novità introdotta in questo atto quindi qui di nuovo siamo di fronte a problemi derivanti da una strana forma utilizzata un strano approccio utilizzato nella gestione del fenomeno e poi c'è invece un altro versante estremamente problematico che è relativo all'implementazione all'applicazione di questo statement di questo accordo cioè l'implementazione è conforme al diritto dell'Unione è conforme al diritto internazionale è conforme al principio del non refoulement è conforme al divieto di espulsioni collettive la Commissione europea molto preoccupata di questo versante ha avuto cura di dire che è conforme la dichiarazione perché i soggetti possono comunque presentare domanda di asilo in Grecia e quindi ottenere una risposta dalle commissioni greche e comunque la Turchia è un paese sicuro quindi è un paese che garantisce la tutela a questi soggetti pur sapete che la Turchia è parte della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati però con una riserva geografica e per esempio a questi soggetti non riconosce lo status dei rifugiati ma riconosce uno status differente di protezione ma differente così come ci sono delle commissioni greche che si occupano di riconoscere lo status di rifugiato che hanno dichiarato la Turchia un paese non sicuro quindi ci sono dei problemi enormi nell'applicazione di questo accordo di questo statement che derivano da un lato appunto dalla forma quindi dai profili istituzionali di architettura normativa che sono stati utilizzati e dall'altro dal contenuto dell'atto sto finendo quindi al massimo vi rubo cinque minuti in più ma sto arrivando alla fine l'ultimo tassello è breve è non noto per lo più però ve ne voglio parlare perché a me fa impazzire è uno strumento finanziario si chiama sostegno di emergenza che è stato introdotto dall'Unione Europea siamo sempre nella primavera di quest'anno è stata una primavera particolarmente creativa a livello di Unione Europea è stato adottato un regolamento quindi ancora una volta abbiamo un atto normativo in questo caso come nel caso della ricollocazione quindi vedete che ha usato in realtà insomma queste quattro tessere abbiamo due tessere con atti normativi che sono stati adottati sulla base di competenza esplicita e invece due strumenti che sono stati adottati due strumenti due metodologie che sono state applicate in modo informale allora abbiamo un regolamento che è stato adottato dall'Unione Europea volto a fornire un sostegno di emergenza a paesi membri dell'Unione la cui base giuridica è l'articolo 122 del paragrafo 1 scusate del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea di che cosa si occupa quest'articolo quest'articolo si occupa di emergenze economiche negli stati membri in particolare dovute a crisi di approvvigionamento di prodotti in particolare di approvvigionamento di carattere energetico stiamo parlando di questo sulla base di questa base giuridica scusate la ripetizione è stato adottato un regolamento che introduce un sostegno finanziario eccezionale e anche estremamente corposo di cui signora ha beneficiato la Grecia essenzialmente che può essere riconosciuto a stati come vedete colpiti da una situazione da una crisi economica derivante da catastrofi naturali o provocate dall'uomo in atto o potenziali catastrofi naturali o provocate dall'uomo che abbiano un impatto eccezionale una dimensione eccezionale tali da determinare conseguenze umanitarie gravi e di vasta portata per lo Stato membro che non è in grado di gestire la situazione da solo e che non può utilizzare efficacemente altri strumenti messi a disposizione dal diritto dell'Unione quindi è un po' uno strumento finanziario come dire di last resort mechanism quindi uno strumento cui si dovrebbe accedere solo nella misura in cui altri atti di diritto dell'Unione non possono fornire assistenza nei confronti di uno Stato che è colpito da una catastrofe naturale o provocata dall'uomo di portate di dimensioni eccezionali ribadisco che la base giuridica è rappresentata da una norma che si occupa di crisi economica dovuta a limitazioni nell'approvvigionamento in particolare energetico ok allora questo regolamento è stato adottato proprio nell'ambito insomma dei problemi connessi alla questione migratoria per riconoscere un finanziamento straordinario a favore della Grecia sul presupposto dunque che la questione migratoria rappresenti una catastrofe naturale o provocata dall'uomo naturale non credo provocata dall'uomo sì possiamo parlarne di portata eccezionale tale da rendere lo Stato completamente come dire unable to face a situation completamente vittima della situazione stessa e non gestibile attraverso altri strumenti di diritto dell'unione la cosa ulteriormente interessante è che dal punto di vista operativo ora non voglio entrare nel dettaglio ma dal punto di vista operativo come si concepisce questo sostegno molto banalmente il sostegno è concepito sulla falsa riga dell'aiuto umanitario dell'assistenza umanitaria che l'unione europea fornisce a stati terzi in via di sviluppo l'unione europea sapete è il primo donatore al mondo viene prima addirittura dagli Stati Uniti in termini di assistenza umanitaria quindi ha ormai un ruolo consolidato da questo punto di vista ma quando si tratta di fornire assistenza a paesi terzi cioè l'assistenza umanitaria dell'unione europea è una dimensione un ambito della sua azione esterna ok governata da delle logiche da dei principi che rientrano in gran parte nell'ambito della cooperazione e dello sviluppo non solo ma in larga parte è quello il contesto da cui l'assistenza umanitaria viene e regolamentata da strumenti normativi ad hoc in particolare da un regolamento ormai molto risalente il regolamento 1257 del 96 che cosa si è deciso di fare si è deciso di incorporare una dimensione esterna dell'azione dell'unione e quindi di incorporare i meccanismi del regolamento 1257 del 96 all'interno dell'unione quindi di considerare i paesi membri dell'unione come paesi che possono essere destinatari dell'assistenza umanitaria dell'unione europea rovesciando quindi quello che è l'ordinaria applicazione dell'assistenza umanitaria dell'unione allora come la slide suggerisce tutto questo si può fare sì perché è stato fatto ma è come dire questo atto rappresenta secondo me in modo plastico proprio la rottura di tutte le logiche che dovrebbero governare l'esercizio delle competenze dell'unione europea abbiamo una base giuridica che viene utilizzata in modo del tutto improprio perché non ha nulla a che vedere con la situazione della quale ci stiamo occupando al fine di introdurre un meccanismo straordinario di finanziamento che dovrebbe essere residuale quindi applicabile solo quando non siano applicabili altri strumenti dell'unione e altri strumenti si potrebbero applicare in questo caso e che di fatto incorpora un'azione esterna dell'unione all'interno dell'unione europea cioè siamo di fronte veramente a un cambiamento totale di paradigmi che almeno io sono abituato a considerare quando guardo il diritto dell'unione allora per concludere se a una conclusione si può arrivare che cosa volevo cercare di dimostrare con questa carrellata beh quello da cui sono partito che siamo di fronte a una crisi del diritto dell'unione chiara l'agenda europea delle migrazioni vi dicevo viene adottata nel 2015 con l'obiettivo di introdurre una serie di misure di anticipare una serie di misure che poi sarebbero state adottate per la realizzazione di un approccio coerente e globale della questione dei migratori questi strumenti ci dicono che questo approccio globale e coerente non c'è non c'è nei fatti non c'è nei fatti perché da un lato abbiamo un ricorso assolutamente frequente a strumenti extraordine cioè misure straordinarie eccezionali che non sono previste nell'ordinamento dell'unione così come l'ordinamento dell'unione dovrebbe applicarsi comunemente d'altro lato abbiamo da un lato strumenti straordinari eccezionali non riconducibili al quadro giuridico noto dall'altro abbiamo l'elaborazione di soluzioni che ho definito creative ma insomma avete visto che insomma sono effettivamente tali in cui l'unione europea elabora rimodella sulla base della pressione migratoria come se la pressione migratoria spingesse sul diritto e portasse a rimodellare le categorie normative esistenti trasformandole adattandole al caso di specie con conseguenti problematiche poi sul piano applicativo operativo e l'ultimo elemento certo non meno rilevante è il ruolo che gli stati hanno assunto in tutto questo come esecutori gli stati poi hanno un ruolo anche chiaramente nella definizione di questi atti tutto questo viene dal consiglio europeo quindi viene dai capi di stato e di governo stati che hanno dimostrato una resistenza particolarmente significativa nei confronti dell'applicazione di determinati strumenti mettendo in crisi quel meccanismo di lealtà e solidarietà che dovrebbero essere un elemento di come dire fondante del tessuto connettivo della convivenza tra gli stati membri all'interno dell'ordinamento dell'Unione Europea siamo di fronte a una novità cioè questo fenomeno questa crisi è una cosa nuova purtroppo no almeno io ho questa sensazione cioè se io guardo a come l'Unione Europea sta gestendo questa questione io rivedo esattamente come l'Unione Europea ha gestito sta gestendo la crisi economico finanziaria stesso identico approccio un approccio che vuole un paradigma emergenziale di contesto sto completando un paradigma emergenziale di contesto quindi siamo nell'ambito di una emergenza di qualcosa di straordinario pertanto occorrono soluzioni straordinarie le soluzioni straordinarie sono delle soluzioni che io trovo fuori dall'ordinamento perché l'ordinamento non ce l'ha e allora per esempio in ambito economico finanziario gli stati iniziano a concludere degli accordi per stabilire meccanismi di stabilità europei al di fuori dell'ordinamento giuridico dell'Unione oppure io prendo gli strumenti giuridici che il diritto dell'Unione mi metta a disposizione e gli rimodello sulla pressione dell'emergenza e la stessa cosa è avvenuta nell'ambito della crisi economica finanziaria il mio punto di vista è che sia proprio sbagliato questo tipo di paradigma cioè dovremmo secondo me cancellare dalla nostra mente l'idea che siamo in una situazione di emergenza siamo di fronte a un problema a una questione che va governata con strumenti di cui l'Unione già largamente dispone il piccolissimo problema è che manca la volontà politica per utilizzare questi strumenti però qui ricadiamo nella crisi esistenziale come l'ha definita Juncker nel corso del suo discorso sullo stato dell'Unione quest'anno di cui l'Unione ormai pare essere preda grazie grazie mille al professor Casolari per questo interessantissimo intervento anche per aver sforato di pochissimi minuti ho apprezzato moltissimo la completezza del suo contributo e anche lo metto da fan del film il fermo immagine da Frank Stein Junior che tra l'altro è molto pertinente mi sembra perché in base delle conclusioni abbiamo capito che il film Frankenstein c'entra molto alla fine è così come Frankenstein era un ammasso composto di vari organi poco armonici poco armoniosi anche il sistema giuridico dell'Unione Europea quanto pare è un semiraccoglieticcio disorganico di norme senza coerenza interna e mi viene in mente anche un'altra battuta quella famosa sul cervello abnormal che quanto pare sta guidando oggi l'Unione Europea vedendo abnormal ma anche l'esterno quindi vedendo una situazione come anormale quando in realtà forse è quella che è destinata ad accompagnarci nei prossimi 10, 15, 50 anni e quindi bisognerebbe governarla forse con un po' più di buon senso grazie mille sono spiacente sono spiacente di dirvi che il coffee break cioè la pausa caffè scusate è decurtata di 15 minuti perché siamo un po' in ritardo la si fa naturalmente avete tutti diritto a un caffè e a un panino però di 15 minuti soltanto quindi noi alle 05 07 ci troviamo qua va bene grazie